Adesso è scontro. Il maxitelo pubblicitario di Fastweb che ricopre il prospetto meridionale della cattedrale di Palermo accende le proteste dei social network e tra annunce smentita diventa un caso. Collocato nell'ambito di un accordo tra la Curia e la concessionaria di pubblicità VATSRL che finanzia i lavori di manutenzione del portico in cambio del diritto a cedere gli spazi di sponsorizzazione sui teli di ponteggio del cantiere, il poster 10 metri per 10 è finito nel mirino di cittadini e associazioni che criticano la presenza di pubblicità su uno dei monumenti più rappresentativi di Palermo. Ieri sera attraverso il suo account Twitter Fastweb ha precisato che non ha mai acquistato quello spazio e ha annunciato che è stato intimato alla concessionaria inadempiente di rimuovere l'impianto pubblicitario entro oggi ma la VATSRL cade dalle nuvole, quella pubblicità ci è stata inviata da Fastweb sulla base di un contratto ben preciso, di certo non ce la stiamo inventata e non c'è giunta nessuna richiesta di rimuoverla quindi oggi sarà ancora lì. Una polemica in cui entra anche il Comune che annuncia di aver richiesto agli uffici competenti un'urgente relazione di verifica sulla legittimità degli impianti pubblicitari realizzati sulla facciata della cattedrale disponendo immediata revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate in violazione del regolamento comunale o prive del nulla osta della sovrintendenza per i beni culturali. Un avvertimento che la società respinge al mittente e paradossale oltre ad avere tutte le autorizzazioni necessarie abbiamo anche atteso proprio i tempi richiesti dal Comune per montare il ponteggio.